Giulio Senes è presidente delle associazioni europee Greenways ed è qui per raccontarci le esperienze italiane. A che punto sono le Greenways in Italia? Allora, se per Greenways intendiamo il recupero di ferrovie dismesse come percorsi ciclopedonali, percorsi verdi, come quello che stiamo promuovendo oggi, siamo ancora un po' indietro. In Italia abbiamo circa 800 km di ferrovie dismesse recuperate come Greenways, a fronte di un patrimonio generale di circa 7.000 km di ferrovie dismesse. La Spagna, 20 anni fa, ha fatto il primo censimento, 7.000 km anche loro, oggi dopo 20 anni 2.600 km di ferrovie dismesse recuperate. Questo ci dice il gap che abbiamo con un paese molto simile a noi. Però devo dire che negli ultimi anni questa sensibilità anche in Italia è aumentata, anche grazie alla nuova sensibilità che bisogna dirlo, il gruppo Ferrovie dello Stato sta dimostrando negli ultimi due anni. È chiaro che noi partiamo in ritardo, però possiamo anche avvalerci dell'esperienza degli altri, che hanno faticato a evitare di fare gli stessi errori. Uno degli errori fondamentali è quello di pensare che costruiamo l'infrastruttura e poi magicamente da sé arriva allo sviluppo. Purtroppo non è così. Ci serve l'infrastruttura, ma serve tutto l'interessamento di un territorio per attivare tutte quelle economie circolari positive, il coinveggimento della popolazione, il terzo settore, l'imprenditoria approvata, perché il territorio venga promosso. E a quel punto il territorio, la popolazione si rimpossessa di qualcosa che era suo, perché questo vecchio tracciato è comunque una risorsa della popolazione locale, lo utilizza ma poi promuove questo territorio anche per i turisti.